Nella scommessa gol no gol ci viene chiesto di pronosticare se in un match di calcio entrambe le squadre impegnate segneranno entro i tempi regolamentari almeno un gol oppure no la parola chiave qui è entrambe sceglieremo infatti gol se pensiamo che entrambe le squadre saranno in grado di fare gol se invece pensiamo che almeno una delle due squadre resterà a secco sceglieremo no gol in Serie A lo scorso anno hanno prevalso i no gol cioè le partite in cui almeno una delle due squadre non ha segnato è un classico la Serie A risulta la più avara di emozioni visto che all'estero in Spagna in Inghilterra in Germania prevalgono i gol mentre da noi i no gol vincono con il 52,4% anche domenica scorsa nel primo turno di Serie A un diluvio di no gol ben otto partite su dieci soltanto in Fiorentina-Udinese 2-1 e Roma-Catania 2-2 hanno segnato entrambe le squadre e per quanto riguarda il match clou di domenica prossima Inter-Roma abbiamo già visto che la Roma è stata una delle sole quattro squadre a finire con esito gol nel primo turno di quest'anno e l'anno scorso la Roma è stata addirittura la squadra leader delle partite gol ben 23 su 38 e non era ancora arrivato Zeman mentre l'Inter l'anno scorso è stata neutrale 19 gol 19 no gol insomma con una squadra fortemente gol come la Roma e una neutrale come l'Inter si potrebbe azzardare gol ma guarda caso proprio Inter-Roma l'anno scorso è finita 0-0 no gol e quest'anno come finirà?